ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo video io sono mazze testa e sono qui per farvi vedere la versione beta diciamo di antarne 3.0 questa è la 3.0.6.1 early preview allora innanzitutto possiamo vedere che l'aspetto è già diverso perché possiamo avere più personaggi se abbiamo la gold upgrade qua e il personaggio può essere modificabile come nome come specialità anche le specialità per ora non hanno niente di particolare ma aggiungeranno delle caratteristiche interessanti per il futuro del gioco quindi ci sarà più un lavoro di gruppo insomma in cui c'è uno che è più esperto nelle coltivazioni altri che sono più esperti nel combattere eccetera eccetera come un po' un gruppo di sopravvissuti a questa invasione zombie questo è l'aspetto che si può cambiare davvero poco adesso questo questo e i capelli o senza capelli o così barba o senza barba o con la barba questo è tutto coperto qua ma vabbè gruppo vabbè niente i vestiti per ora nulla sono quelli che si possono incontrare nel gioco vabbè configuration ci sono varie cose workshop qua adesso c'è il nuovo editor delle mappe infatti ho provato a fare una mappa ma è ancora un pochettino confusionale diciamo io direi che vi faccio vedere una partita in single player nella nuova mappa che hanno fatto che però sarà assolutamente da ancora da completare mancano tantissime cose vi anticipo già essendo una beta mancano tantissime cose tra cui per esempio gli zombie quindi è un gioco proprio ancora in una fase beta 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 cioè eta beta non si possono tirare pugni sto cliccando non succede assolutamente niente lo sprint è stato cambiato perché perché non mi scende perché non corre più a ok non partivo lo sprint adesso sprint no normalmente e questo è abbastanza come la versione vecchia versione però adesso vi faccio vedere una volta che finisco di sprintare ecco come recuperare in fretta di nuovo la possibilità di muoversi insomma la nuova mappa la nuova mappa come parti principali a semplicemente questa città in cui sono degli oggetti ma gli spawn sono di oggetti sono davvero ancora pochi nel senso si possono trovare medic kit scatole di fagioli bottiglie d'acqua questi fucili qua caricatori per quei fucili la asce qualche vestito e basta infatti vedete potete vedere qua ci sono già vabbè no questo qua è l'affare per quel fucile vedete è sempre quel fucile da tutte le parti un'altra bottiglia d'acqua un'altra bottiglia d'acqua un medic kit non c'è praticamente niente di interessante non ci sono le macchine è ancora davvero un early 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 preview due fucili vedete un'altra scatola di fagioli dell'acqua un'altra scatola di fagioli la mappa sembra abbastanza carina però appunto ancora molto molto c'è ancora da fare un'altra cosa che c'è che secondo me è una cosa fatta davvero benissimo rispetto al al vecchio è un tunnel ed 2.0 ed è la fattoria che però non mi pare che sia in questa direzione mi pare sia nell'altra direzione e in pratica secondo me è stata pensata davvero in modo molto più furbo perché ha tra l'altro c'è l'accetta nel gioco come oggetto spawnabile però non si possono tirare giù gli alberi quindi assolutamente è un gioco ingiocabile cioè giusto se qualcuno lo vuole provare ma non c'è praticamente niente da fare ancora 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 ora come adesso sta proseguendo abbastanza in fretta però neanche troppo nel senso che il creatore è una persona sole è un ragazzo alla scuola sta studiando di conseguenza non è la sua priorità nella vita on time oltretutto è un free to play e non ci guadagna quasi niente cioè ci guadagnerà qualcosina da chi prende il gold upgrade ma niente di che e quindi eccola qua la fattoria infatti ricordavo bene e quindi naturalmente non ci si dedica tutti i suoi giorni della sua vita qua c'è una lavatrice rotta dove si possono trovare degli oggetti ma sono vedete sempre gli stessi un fucile è una bottiglia d'acqua l'inventario è stato rivisto adesso vi faccio vedere come potete vedere ah no non ho più i vestiti addosso comunque l'inventario qua vi faccio vedere solo prendendo quel fucile là per esempio che cosa è cambiato gli oggetti non occupano più uno slot gli oggetti occupano spazio in base alla loro grandezza vedete per esempio questo fucile mi occupa quasi tutto lo spazio dell'inventario e la bottiglia mi occuperà no ho solo uno spazio qua questo del fucile mi occuperà anche ah no questo mi occupa due spazi diciamo però c'è il fatto che oltre allo zaino anche i vestiti permettono di mantenere dentro degli oggetti e di conseguenza aumentano la possibilità di portata di oggetti una cosa che non so ah tra l'altro c'è anche uno zainetto che si può trovare mi sono dimenticato di dirlo uno zainetto rosso che ha poco spazio però è un altro degli oggetti che si può trovare qua la fattoria è fatta abbastanza come le scorse gli oggetti ah ecco qua lo zainetto proprio se ne parlava ah no non riesco prenderlo perché non ho più spazio quindi droppiamo il fucile tanto se ne trovano ovunque lo equipiamo l'animazione è anche più carina quella per mettere gli oggetti come potete vedere qua c'è lo spazio non c'è più presente almeno non c'è presente per ora la possibilità cioè il fattore del peso ecco il fattore del peso non c'è ancora per quanto riguarda gli zaini o i vestiti eccetera eccetera cosa sia stato sostituito da quello ecco questa è secondo me la cosa più bella che potessero fare cioè il grano è alto voi volete mettere di notte a passare qua in mezzo non vedete un crebio in pvp è epico ma anche contro gli zombie cioè è davvero molto più pericoloso attraversare una fattoria con del grano così alto che limita davvero un sacco la visuale rispetto che camminare con dell'erba così è davvero e cioè qua in mezzo potrebbe esserci potrebbero esserci un fracco di zombie non si vedono è stato pensato davvero bene questa cosa qua la mappa finisce praticamente qui perché oltre questa fattoria non c'è nulla se ricordo se non ricordo male e dall'altra parte della città anche finisce nel nulla e quindi non c'è niente di chissà che cosa insomma adesso non vorrei dire una cavolata però forse da questa strada non l'ho provata effettivamente devo controllare di qua comunque c'è poco niente quindi assolutamente se voi volete continuare a giocare un tunnel non vi consiglio di effettuare l'upgrade alla beta che tra l'altro non è automatico diciamo viene fatto solo tramite un processo un pochettino non usuale insomma si infatti finisce qua e se provate andare alla fine del mondo precipitato in una specie di precipizio ah no qua è semplicemente bloccato così ma tipo di là dove dovrebbe esserci il mare e finisci in una specie di vuoto e rimane bugato la fin dato che non ti suicidi per questo video credo che possa essere tutto quando ci saranno altre novità significative su untarned 3.0 vi presenterò il tutto con un nuovo video io vi saluto vi invito a mettere un mi piace se il video vi è interessato iscrivervi se il mio canale vi interessa ci vediamo nei prossimi video ciao a tutti